buongiorno buongiorno a tutti gli amanti delle due ruote in ascolto la gara della moto 3 sta per prendere il via qui sul circuito di catalunia per il sesto appuntamento del calendario il cielo sopra la pista è sgombro da nuvole e gli ultimi bollettini meteo prevedono temperature in linea con la media stagionale a 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 grandissimo talento a 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